Niente di turpi, niente di spaventi, che a Dio niente gli manca, niente di turpi, niente di spaventi, solo Dio basta. Niente di turpi, niente di spaventi, che a Dio niente gli manca, niente di turpi, niente di spaventi, niente di spaventi, solo Dio basta. Niente di turpi, niente di spaventi, solo Dio basta. Niente di turpi, niente di spaventi, niente di spaventi, niente di spaventi, solo Dio basta. Buonasera famiglia all'ascolto. Benvenuti nella nostra cappellina, dove continuiamo a metterci all'opera per ascoltare la parola di Dio di domenica prossima, seconda domenica del tempo ordinario, anno B, e per fare un piccolo commento insieme, qualche considerazione che possa accompagnarci durante la settimana. iniziamo subito nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse Ecco l'agnello di Dio. E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro Che cosa cercate? Gli risposero Rabbi, che tradotto significa maestro, dove dimori? Disse loro Venite e vedrete. Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni Battista e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello, Simone, e gli disse Abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù gli disse Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cari amici, famiglia dell'ascolto, oggi il desiderio è quello di fare un piccolo passo indietro. Piccolo, piccolo. Perché la parola che vorrei distaccare da questo testo e far risuonare con forza, quasi come una sorta di ritornello costante, è la parola cercare. E all'interno di questo testo Gesù dice che cosa cercate, dice ai suoi. Poi tra l'altro si gira indietro, li vede di spalle con la coda dell'occhio, e si tratta di due discepoli di Giovanni il Battista. Bellissimo segno che solo l'Evangelista Giovanni ci traduce, ci consegna, nella tradizione cristiana, nella storia della salvezza, che alcuni discepoli di Giovanni il Battista si misero sui passi di Gesù, dopo che Giovanni stesso, scegliendo di diminuire e di far aumentare Gesù, nel senso della progressione della salvezza, della storia della fede, dell'alleanza verso l'eternità, indica lui stesso il passaggio da un maestro terreno a un maestro divino, che è Gesù. E che cosa cercate, dice Gesù? Una domanda che oserei dire a bruciapelo e che richiede una risposta, pensate se qualcuno ve la domandasse così, senza alcuna suppellettile, senza una premessa, un preambolo, senza l'apparente nozione di conoscervi. Vi domanda che cosa cercate. Questa domanda di senso può sconvolgere chiunque e lasciar fulminato per terra chiunque. Evidentemente esige anche una risposta da parte di chi ha veramente sete di ricerca. Il passo indietro sta in quel Vangelo di Matteo, al settimo capitolo, discorso della montagna, quando Gesù, riprendendo alcuni proverbi popolari, dice Chi cerca trova. Ricordate sicuramente questo testo. Siamo al settimo capitolo, settimo versetto. Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede e riceve, chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto. Ecco, vorrei un po' iniziare da qui. Perché questi proverbi, che poi fanno parte della sapienza di ogni popolo, e dei quali Gesù si serve, ma non si fermerà qui, vedremo, servono proprio per sollevare le nostre membra doloranti attraverso ciò che è squisitamente e genuinamente umano, ciò che è raggiungibile attraverso il lume ragionevole, il lume pulito, se volete, della ragione. E alla ricerca cosa cerchi, cosa vuoi, la domanda più profonda potrebbe essere la felicità. Ma prima di arrivare a qualsiasi considerazione, vi invito a riflettere anche in un modo un po' cinico, se volete, a questo. Chi cerca la prima parte dello stico? Chi cerca puntini puntini? E subito dopo, con due punti o tre punti interrogativi, o con una sfilza di punti interrogativi, chi è che cerca? Chi è che è in ricerca? Qual è l'identikit del cercatore? Chi è che, più che cercare, si accontenta? Chi è che si accontenta di trovare un surrogato di felicità? Un surrogato di risposte? Le risposte facili di un assistente elettronico, un assistente informatico intelligente. Chi è che si ferma alla citazione per sentito dire, oppure cerca la fonte? Chi è che cerca dentro la fonte la persona che lo ha detto? Chi è che cerca? Chi è che cerca la verità? Ovvero, questa domanda, vorrei dirvi, è una domanda che a me stesso risulta come una terribile provocazione. Oggi, chi è che cerca? Chi è che spende tempo nella ricerca? Chi è che lascia i piccoli, stretti, conosciuti, confortanti, i confini delle proprie lenzuole, del proprio letto, della propria casa, del proprio paese, per cercare qualche cosa, talvolta anche a rischio della vita e della sicurezza, lasciando le fragili sicurezze. e questo è la prima grande domanda. Chi cerca? La seconda che vorrei delineare così è cosa cerca? Questo è Matteo sempre, ma questa volta al capitolo 6, versetto 33, un testo bellissimo sulla provvidenza. Cosa cercare di buono? Cosa cercare che può dare la felicità? Ciascuno di noi direbbe, beh, potrebbe essere una bella macchina, una bella casa, finalmente un lavoro, un figlio, un fidanzato, un uomo, una donna, qualcuno da sposare, da portare all'altare, o un weekend di spritz, o ancora un buon libro, oppure un'ottima amicizia, una sola, non di più. Ecco, Matteo al capitolo 6 Gesù direbbe, cercate il regno di Dio e la sua giustizia. Cercate, cioè, il luogo dove abitare, che è un luogo metaforico, non è una casa fatta di mattoni, ma è il regno di Dio, è una giustizia nella quale abitare veramente confortati, nella quale, cioè, il tuo benessere è strettamente collegato gomito a gomito, cuore a cuore, con il benessere degli altri. Perché se tu stai bene e gli altri stanno male, che te ne fai della casa bella? Ma ci sono tante cose da cercare. Ci sono cose buone, ma ci sono cose anche che fanno male. Ci sono cose buone in sé, ma non sono buone per me. Ci sono cose che apparentemente edificano e invece distruggono lentamente. Corrodono come il tempo, come le interperie, l'acqua, corrodono come la ruggine, come la tignola. Ecco, le parabole di Gesù contengono spesso il dinamismo di questa ricerca. Forse ricorderete la dracma perduta, la perla nel campo. Ecco, sembra di poter dire con questi testi che la ricerca di ciò che è necessario e soprattutto la ricerca di ciò che è buono buonifica l'uomo. Permettetemi il neologismo. Cioè lo qualifica buono. Se cerchi cose buone, ti fai buono e edifichi la tua bontà e la tua vita. Ciò ti conferisce dignità. Mentre se mangi e se cerchi cose cattive, lentamente il tuo cuore si abbassa alla povertà, alla miseria di ciò che mangi. Parafrasando proprio quel detto, l'uomo è ciò che mangia, beh, l'uomo no, è ciò che cerca. E l'oggetto della tua ricerca ti brilla negli occhi, conforma il tuo cuore. Quanti occhi brillanti abbiamo potuto vedere e contemplare. E l'ultima parola. Trova. Chi cerca trova. Trova. Puntini puntini. Trova. 18 punti interrogativi. Questo nel proverbio è un ottimismo. La risposta è non solo possibilista, è proprio ottimista. Chi cerca trova. Punto. L'esito del proverbio è positivo. È un ottimismo epistemologico che diffonde in tutto il libro dei proverbi e nei proverbi popolari. Coraggio. Se hai perso qualcosa in casa, la casa non ruba. Chi cerca trova. Ci dicevano le mammo e i papà quando perdevamo qualche cosa, no? E come la famosa lavatrice mangia calzini, no? Tutti abbiamo almeno un calzino spaiato. L'altro se l'hai mangiato la lavatrice. Cerca, per favore, che lo trovi. Aggiungo io. Talvolta l'esperienza nella sua brutale concretezza ci dice che non è possibile ottenere tutto quello che cerchiamo. Il problema non sta nel non trovare, ma sta in quello. Perché noi cerchiamo e vogliamo trovare nella stessa linea della ricerca. La stessa qualità delle cose. Possibilmente la stessa richiesta nella medesima quantità che abbiamo domandato. Gesù dice cercate il regno di Dio. Cercate mio padre e padre vostro. Cercate la sua giustizia. Il resto, le cose materiali, vi vengono date in aggiunta in forma di provvidenza. Questo è il discorso della montagna. Ma finora siamo nell'economia umana, l'economia antica. Cosa manca ancora? Beh, oggi il Vangelo, quello di domenica prossima, ci viene in aiuto. Quando leggiamo dei discepoli, Pietro, Andrea, ma soprattutto prima Andrea, Giovanni, si guardano, guardati da Gesù. Poi vanno incontro ai fratelli. Guardano Pietro. Pietro va. Gesù lo guarda. Pietro lo guarda. E gli dice vieni e vedi. Venite e vedete. Ragazzi, c'è uno scambio di sguardi che è una sinfonia d'amore commovente, meravigliosa. Sull'esempio del Battista che vede il Figlio di Dio e lo indica, Gesù vede e loro lo vedono. Queste prime giornate di Gesù sono una cosa stupefacente. dopo il Battesimo del Giordano i volti si cercano, si incrociano gli occhi. Emerge un desiderio. Vibra una domanda. E allora la ricerca dell'uomo si incontra con la ricerca di Dio. Ecco il mistero e la risposta, la pienezza al discorso della montagna e alla chi cerca trova. L'uno e l'altro si cercano, ma finalmente la ricerca dell'uomo è preceduta dalla ricerca di Gesù. È Gesù che ti è venuto a cercare definitivamente. Per questo possiamo non più cercare, ma andare. Venite, dice Gesù, non cercate. Venite. Mi avete visto ormai. Venite a vedere. Venite a vivere con me. Lasciate le vostre ricerche anguste di creaturalità. Questo è un testo profondamente vocazionale. Forse è ancora più bello della chiamata dei dodici sul lago di Genesaret dei Vangeli Sinottici. Perché qua c'è tutta la corporeità. C'è tutto il sentimento di Gesù, il suo cuore appassionato. Ed è una ricerca, è un incontro multisensoriale. Veramente. C'è un eros, un incontro meraviglioso. Questa è la vera inversione di rotta. Bene, amici. L'ho fatta forse un po' lunga. Non voglio tediarvi. Anche perché l'ascolto, seppur di pochi minuti, è impegnativo a quest'ora della sera. Ma io oggi vorrei ringraziare tantissimo. Stasera, dopo una giornata un po' così, no? Di debolezza, un po' di astenia per questa influenza che gira, che mi ha preso in modo tranquillo. Volevo ringraziare per tanta provvidenza. Pensavo, adesso oggi avrei forse bisogno di un po' di carne per fare sangue. Sapete, quando c'è bisogno di qualcosa, ma magari non pretendi di domandarlo. Beh, sapete cosa è successo? E questa è l'esperienza che vi testimonio. Stasera è arrivato, senza che io lo domandassi, ma per telefono sono stato avvertito, avvisato un battaglione d'assalto albanese. Un esercito femminile, albanese, che non poteva essere altrimenti, visto che con l'Albania si è creato anche là un legame bellissimo, come col Brasile. E un battaglione d'assalto albanese che mi ha portato praticamente un vitello intero, non un po' di carne da mangiare, ma un bue intero senza corna, decornificato, con dolce finale. Ecco, io non potevo domandare di più per rimettermi in sesto, e tutto questo fa energia, e di questa energia faccio dono in questa serata, così, però sempre bellissimo, a servizio della parola di Dio. Allora, grazie a tutti voi, nessuno escluso, e a tutti i benefattori, quelli di stasera, quelli di domani, quelli di sempre, di cui tutti ringraziamo, perché i regali più belli, l'amore, la parte più bella della vita, è gratis. Preghiamo insieme, la Vergine Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica, protegga e accompagni sempre in questa settimana di onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Il Signore vi conceda una notte serena e un riposo tranquillo. Amen. Benissimo. Balbona, Delico, Sara, eccetera. Saluti, abbracci a tutti quanti voi. Spressa, anche a te. Ciao.